E con il ritorno della bella stagione torna anche il look stile due facce. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, lo so i fantacasting stanno latitando da un po' di tempo a questa parte, ma fidatevi, ritorneranno. Sono qui invece oggi per fare un rapidissimo video avviso riguardo a un evento particolare. Prima che me ne dimentichi però vi rimando i miei indirizzi Twitter e Instagram in modo che mi possiate seguire anche al di fuori di YouTube e passiamo quindi a parlare dell'evento in questione. Infatti domani, ovvero sabato 24 marzo, sarò presente al Padova B-Comics per una versione specialissima di Facce di Nerd. L'apprezzato appuntamento settimanale su YouTube avrà infatti una versione alquanto speciale, una versione live, anzi ulteriormente live, infatti non a caso si intitolerà Facce di Nerd più live di così. Inutile dirvi che non sarò da solo al B-Comics, infatti ci sarà anche il creatore e ideatore del Facce di Nerd originale, Matti Oschi, ci sarà anche Victor Lasolo 88, assieme a Dark Andros, Giacomo e Michael Righini. Questo nostro nutrito sestetto si cimenterà nella classica tavola rotonda a tema nerd e a tema cultura popolare che tanto vi ha lietato in queste ultime settimane, se non addirittura questi ultimi mesi. E ci sarà poi anche spazio per voi. Infatti, anche questa volta abbiamo intenzione di rispondere alle domande del pubblico, solo che questa volta il pubblico sarà dal vivo direttamente di fronte a noi. Quindi, se sabato 24 marzo sarete al B-Comics di Padova e volete venire a sentirci, siete benvenuti. Cominceremo alle ore 15, quindi siate puntuali. E portate anche i vostri amici non nerd, che non sia mai che possano imparare qualcosa. Ciao!